Luca si tinge di rosa in vista del ritorno all'otto maggio del Giro d'Italia. Aiuole e illuminazione richiameranno il colore della celebre maglia e il centro ospiterà 12 megabiglie, alcune con un diametro di 6 metri, ispirate a quelle da spiaggia, con i ritratti dei campioni, realizzati da Karl Kopischi, celebre illustratore fantasy e appassionato di ciclismo. Le opere dell'artista saranno esposte dal 3 maggio nella chiesa di San Franceschetto per la mostra Karl Kopischi, Wearing the Pink, organizzata da Luca Crea in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Luca. C'è Marc Cavendish, il cannibale Eddie Merckx, Jacques Anquetil, Monsier Cronaut, saranno esposti nell'auditorium di San Franceschetto e per la città 12 grandi installazioni che ricorderanno le meravigliose biglie con cui giocavamo sulla spiaggia porteranno i meravigliosi ritratti di Karl Kopischi. Il ritorno in città della competizione dopo 39 anni segna per molti lucchesi un momento importante anche dal punto di vista affettivo. La fondazione è sempre vicina a tutti gli eventi più significativi delle città. Ricordo benissimo le due giornate nell'84 e nell'85 quando il giro partì da Luca nell'84 e quando arrivò nell'85. Fu una giornata di grande festa per i lucchesi, quest'anno forse la festa sarà anche superiore. Sabato 4 maggio i partecipanti della Lucchesina, la passeggiata ludico-motoria organizzata dall'associazione Luca Marathon, riceveranno una maglia rosa e anche la pugilistica lucchese omaggerà il giro nel weekend del 4 e 5 maggio. La sera prima della tappa, il 7 maggio, sarà invece la volta della pedalata rosa, manifestazione cicloturistica organizzata dall'associazione Cycling Team. Sempre la sera del 7 maggio buffet in rosa al caffè delle Mura, ma gli eventi per festeggiare il ritorno del giro, assicurano i ben informati, non finiscono qui. Grazie.